ciao ragazzi oggi vi spiegherò come scaricare skyrim quindi prima di tutto dovete entrare in questi megapload dalla parte 1 alla parte 8 sono le parti del gioco più la crack quindi le aprite scaricate, le scaricate in una cartella tipo io ho scaricato qua e quando avete scaricato estraete questi file grazie a questa password call machine e vabbè ve la metterò anche in descrizione la password quando avete fatto estraete la crack questa qua e copiate questi tre file nella cartella dei file di miscarim che sarebbero questi uno e poi gli altri vabbè questi, due, tre poi fate questo che sarebbe l'installazione, qua ci sarà scritto in install a voi ma in shape play perchè l'ho già installato e qua ci saranno le varie opzioni per la grafica e divertitevi a questo gioco grazie per aver visto questo video alla prossima ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti